in difficoltà di cotirotazioni Reggio nesce vincente perché c'è l'errore Mussini va fino in fondo ad appoggiare eccoli i primi due di Federico Mussini si sblocca anche Federico importante, importantissimo perché è un giocatore che può avere punti nelle mani deve tornare in campo perché è stato forse l'uomo migliore del secondo tempo in fase offensiva Cervi fuori da Cincerini Piccarola ancora con Cervi che poi si punta dentro c'è il cambio difensivo, Cincerini attacca in bacque va fuori da Mussini, buon tiro da tre punti di Federico la bomba di Mussini bravo lui a continuare due punti che fa malissimo Cauchene ha spai 4 in attacco perché sta portando lui i blocchi, Cincerini attacca va fino al ferro, fuori per Mussini prende la bomba Federico Mussini mamma mia Federico Mussini che attributi fermiamoci un secondo pausa 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 scelica vedendo qui si sta qua su Piccarola purtroppo non c'è l'aiuto perché siamo a zona non c'è almeno l'aiuto forte e quindi qua è bravo a punirci due minuti e mezzo al termine del match Cauquenas Piccarola con Polonara ancora rimanda scambio difensivo si va da Mussini torna da Polonara taglia Mussini si va da Cauchenas finta il tiro ancora Mussini 4 secondi altra bomba ma non è è il mezzo si è il mezzo si finta edulia ma non è colone finta la Finta 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì.